Questo lavoro nasce da una collaborazione che mandiamo avanti ormai da diversi anni con una bravissima information designer che si chiama Federica Fragapane, una collaborazione all'interno della quale noi analizziamo i testi, estraiamo dai testi conoscenza di diverso tipo rispetto al tipo di testo che stiamo analizzando e poi lei è in grado di visualizzarli attraverso delle rappresentazioni che sono in grado intanto di far uscire nuova conoscenza dei testi perché organizza la conoscenza che stiamo tirando fuori noi in maniera da visualizzarla e da renderla esplicita e da renderla anche bella nella sua visualizzazione. Nello specifico qui abbiamo analizzato i testi del canzoniere di De André, all'interno appunto di questa collaborazione l'ultima volta abbiamo analizzato De André per far vedere proprio come i concetti che De André esprime nelle sue canzoni variano all'interno del suo canzoniere e poi globalmente all'interno di tutto il canzoniere di che cosa parla e come parla di certi argomenti. Riusciamo a farlo questo grazie a degli strumenti che sono in grado di analizzare automaticamente il testo. Analizzare automaticamente il testo vuol dire sviluppare un sistema in grado di comprendere il linguaggio, non solo di capire quali sono le frasi, le parole all'interno del testo ma anche di capire per esempio qual è il ruolo per esempio grammaticale di una parola all'interno del testo, per esempio un sostantivo, un verbo, un aggettivo, ma anche qual è il suo ruolo sintattico all'interno del testo, quindi data una frase, chi è il soggetto della frase, chi è l'oggetto e via via siamo in grado di estrarre attraverso appunto gli algoritmi basati sull'intelligenza artificiale con formazione linguistica che riusciamo a dargli, infatti il nostro laboratorio ha una combinazione di collaborazione tra informatici e linguisti, questi algoritmi sono in grado quindi di far emergere la semantica all'interno del testo, il significato delle parole e di creare una specie di rete concettuale del contenuto dei testi che stiamo analizzando. Analizzare le canzoni è molto più complesso perché ovviamente abbiamo uno stile di scrittura complicato, perché c'è tutta una struttura proprio della frase che non è una struttura canonica del testo come troviamo sui libri e quindi date queste complessità siamo riusciti comunque a analizzare il canzoniere di De Andrè e di analizzare tutto il canzoniere in maniera diacronica, cioè dal primo album fino all'ultimo album inciso De Andrè per vedere appunto come questi concetti si evolvevano all'interno del suo escursus, appunto del suo percorso di artista e di cantautore. Quello che siamo riusciti a tirare fuori appunto è una rete concettuale di informazioni contenute all'interno delle sue canzoni e di come lui gestisce e tratta certi tipi di informazioni. Da una parte come lo gestisce dal punto di vista linguistico, cioè che tipo di strutture linguistiche utilizza De Andrè e come si differenziano per esempio rispetto ad alcuni autori del suo stesso periodo, poi dal tipo di lessico che usa, per esempio sappiamo che De Andrè utilizza un lessico molto di base, De Andrè parla della strada, De Andrè parla dei poveri, De Andrè parla delle prostitute, De Andrè parla di tutto quello che trova nella sua vita che non era sicuramente una vita d'élite. Poi abbiamo cercato, una volta analizzato il tipo, lo stile di scrittura di De Andrè, siamo riusciti anche a entrare nel contenuto. Di quali concetti parla De Andrè? Per esempio i tre concetti più importanti di cui parla De Andrè sono il primo è l'amore e poi ci sono gli occhi e il cuore, quindi parti del corpo, parti concrete, troviamo nel canzone di Andrè il viso, le mani, tutti oggetti fisici, però dall'altra parte poi troviamo anche oggetti tipo Dio, più trascendentali, la luce, il paradiso, l'inferno, la rabbia, il dolore, la morte, la guerra e siamo riusciti a vedere come questi concetti evolvono nel suo canzoniere e come lui li tratta.